Senti, ogni volta che arriva qualche problema c'è qui, la sanità lo sa, divide il territorio, adesso in questi giorni il tema caldo è quello dei rifiuti. Lei ha visto che aveva una penna prima, la firmerà questa deroga? Guardi, queste sono questioni tecniche per cui io adesso attendo che il Presidente della provincia mi ha anticipato, riceveremo una istanza perché secondo i nostri uffici era competenza provinciale, territoriale, materia molto tecnica sulla base della quale io prenderò la documentazione e la trasferirò agli uffici della Direzione Ambiente della Regione in maniera da procedere nel modo assolutamente più corretto. Un'ultima cosa in merito all'emergenza Covid, si teme purtroppo che la prossima settimana il Piemonte possa tornare arancione, in questo territorio c'è la zona rossa di Re? Sì, l'ho firmata io, la zona rossa di Re, ho anche firmato la chiusura delle scuole in tutta la Valle Vigezzo, misura che prorogheremo molto probabilmente anche per i prossimi giorni. La volontà è quella di non penalizzare tutto il Piemonte, in questo caso tutta la provincia del VCO, ma soltanto le aree che effettivamente possono avere una componente di rischio, quindi una decisione più chirurgica. Fermo restando che il Piemonte sarà giallo-arancione, lo sapremo tra qualche ora col pre-report in via ufficiale venerdì, siamo a cavallo dell'era con T1, per cui qualsiasi tipo di previsione è una previsione che in questo momento sarebbe imprudente.